Incontro con i vertici di Aler Milano per l'assessore da casa e housing sociale Paolo Franco. Presso la sede di Viale Romagna l'assessore è stato ricevuto dal presidente Mario Angelo Sala e dai dirigenti dell'azienda Lombarda per l'edilizia residenziale. Sul tavolo il piano di investimenti nell'edilizia popolare sul capoluogo Lombardo. L'incontro odierno con il presidente e la classe dirigente è più di un atto dovuto per l'importante lavoro che stanno svolgendo. Con coraggio, umiltà e determinazione stanno portando avanti un pieno casa sulla città di Milano da oltre 780 milioni di euro di investimenti nei prossimi due anni. Sono già oltre la metà dell'opera. Una visita importante è quella di oggi presso la sede di Aler Milano. Diciamo che nel mio percorso di presa atto e coscienza di tutte quelle che sono le attività dell'assessorato Aler Milano è sicuramente quella più preponderante. Oggi l'incontro, la visita con il presidente e tutta la classe dirigente è stato più che un atto dovuto di ringraziamento per quello che stanno facendo. Stanno portando avanti con coraggio, umiltà, passione ma soprattutto con determinazione un piano casa che è prettamente rivolto soprattutto sulla città di Milano. Stiamo parlando di oltre 780 milioni di euro di investimento nei prossimi due anni. Sono già a metà dell'opera senza se e senza ma. Con un'attenzione particolare anche a tutte quelle che sono poi il futuro di queste case riattate e nuovamente realizzate perché non possono finire nel degrado e devono essere l'opportunità. In un momento così strategico dove a Milano la domanda supera l'offerta e la parte del pubblico la sta facendo Aler Milano in maniera netta e decisiva. Oltre al lavoro la casa è sicuramente uno degli aspetti di maggior dignità che dobbiamo riportare in essere per tutti. Dare le ali a chi non può usare le gambe è qualcosa di bellissimo, capace di dare un grande senso di libertà a chi purtroppo, magari dopo un incidente, non ha più provato quella sensazione. Da qualche anno è quello che accade all'aeroclub delle Orsi di Varese, dove la scuola di volo e il Trauma Team Center di Niguarda collaborano per consentire ai dirigenti dell'unità spinale dell'ospedale Cagranda di essere ospitati per una giornata o anche conseguire il brevetto di volo. Sul lungo lago di Calcinate, a Varese, una decina di pazienti o ex pazienti dell'unità spinale dell'ospedale Niguarda, accompagnati dai parenti, sono stati portati in volo da dieci alianti, uno dei quali guidato da Osvaldo Chiara, direttore chirurgia generale Trauma Team Niguarda. Un'iniziativa, ha sottolineato il Presidente Fontana, che rappresenta il modo di operare nella nostra regione, in cui eccellenze di ambiti diversi si integrano in maniera virtuosa e complementare per fornire opportunità di miglioramento della qualità di vita delle persone. Il modello Niguarda, dove la collaborazione tra il pubblico, volontariato e il privato, dà i risultati che vediamo tutti i giorni e di cui siamo particolarmente orgogliosi. Il Festival dei Laghi Lombardi contribuisce a valorizzare una grande ricchezza della nostra terra. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Festival dei Laghi Lombardi, chermes culturale giunta alla sesta edizione, in programma dal 7 giugno al 23 novembre. Il tour di spettacolo si articola in 22 date, riunendo in un'unica grande rassegna culturale dieci laghi della Lombardia, Garda, Maggiore, Iseo, Como, Laghi Artificiali di Mantua, Annone, Ceresio, Monate, Varese e distretto dei laghi della Val Chiavenna. Presidente, un festival che valorizza ulteriormente i laghi Lombardi? Che valorizza una grande realtà a Lombarda, perché i laghi sono tante cose, lo dicevo prima, sono pesca, sono sport, sono cultura, sono turismo, sono acqua che serve per l'irrigazione dei campi. Sono soprattutto una realtà incredibile, un modo di essere, un modo di vivere, un modo di interpretare questa grande ricchezza che è rappresentata dai nostri laghi. Oggi abbiamo presentato la sesta edizione, grazie anche a Francesco Pelliccini, che è un po' l'anima di questo festival. È un festival che promuove la cultura del nostro territorio, i nostri laghi, che sono un patrimonio culturale storico importante, che viaggia e quindi permette anche di conoscere quelli che sono i piccoli borghi, le piccole realtà con grande tradizione. Quindi complimenti ancora per questa iniziativa. È un festival che coinvolge tutta la Lombardia, tutti i laghi lombardi, dal lago Maggiore al lago di Garda, passando per quello di Como e per i laghi minori. Sì, e come diceva prima anche l'assessore al turismo, Mazzali, c'è un grande binomio tra turismo e cultura, e quello anche di voler portare avanti un turismo culturale, soprattutto nella nostra regione, che è piena di siti UNESCO, ma anche di altre eccellenze da visitare, come i laghi. Un nuovo spazio aperto alla città, un luogo di dialogo e di scambio, dove fermarsi, chiedere, essere accolti e approfondire cosa fa l'Unione Europea per i cittadini, per gli enti locali, le associazioni. Inaugurati dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, i nuovi uffici di Europe Direct, al piano terra di Palazzo Pirelli, spazi in cui i cittadini possono effettuare un percorso accurato di conoscenza delle istituzioni europee, approfondire il bilancio dell'Unione e il Next Generation EU, ma anche soggiornare per visionare materiale dell'Unione Europea, consultare testi sul diritto dell'Unione. Un'area interattiva dedicata al futuro dell'Europa consente inoltre di partecipare alla costruzione del processo europeo, portando il proprio contributo alla definizione di proposte per il futuro dell'UE. C'è un modo per far conoscere meglio l'Europa, un modo per avere la possibilità di entrare di più nelle iniziative, nei bandi, nelle notizie che arrivano dall'Europa, credo che sia un'iniziativa molto importante per cercare di migliorare sempre di più la coabitazione, l'intersezione con la gente e l'istituzione Europa. Vicepresidente, un'inaugurazione speciale oggi, l'Europa ancora più vicina ai cittadini lombardi. Ma qualcosa c'è di più bello di uno spazio di condivisione, di coprogettazione e poi fatto dove? Fatto a Palazzo Pirelli, che è anche uno spazio iconografico che racconta Milano, racconta la Lombardia e racconta come i nostri territori sono costruttori d'Europa. Aprire questo spazio alla cittadinanza vuol dire fargli sentire parte di un progetto che non nasce dall'alto ma nasce dal basso, nasce dai nostri territori e noi siamo pezzo d'Europa e la Lombardia è cuore d'Europa. Sottosegretario Cattano, lei ha la delega ai rapporti internazionali e anche con Bruxelles. Quindi oggi è un momento di particolare rilevanza perché Bruxelles è arrivata a Milano. Sì e non deve essere l'unico momento in cui Bruxelles viene a Milano. Intanto questo luogo, questo centro Europe Direct è un modo perché Bruxelles sia sempre qui permanentemente all'interno del Pirellone per dare informazioni e per avvicinare l'Europa al nostro territorio. Ma la presenza oggi della vicepresidente della Commissione europea, a due settimane dalla nostra missione a Bruxelles è un altro segno di come Milano e la Lombardia sono al centro delle attenzioni dell'Unione europea e noi dobbiamo fare di tutto perché lo siano sempre di più, non solo nei discorsi formali ma nella attenzione concreta ai nostri interessi. Quello che noi vogliamo che l'Europa capisca è che il territorio ha le sue specificità e il compito di una regione come la nostra è rappresentare le esigenze, le specificità e anche le richieste del nostro territorio a Bruxelles perché vengano tenute nella dovuta considerazione. Presidente, la sede che ospita il Consiglio regionale diventa anche un posto in cui dialogare sull'Europa. Esatto, questo dialogo che si instaura oggi in verità è un ponte vero e proprio che istituiamo tra le istituzioni europee e Regione Lombardia con questo spazio che sarà una grande opportunità per tutti, per cittadini che vorranno raccogliere informazioni in merito ai bandi europei oppure informarsi semplicemente per conoscere al meglio come funzionano le istituzioni europee e quindi aderendo a iniziative, progetti, visite che potranno sicuramente arricchire il loro patrimonio informativo in merito all'Unione Europea perché siamo tutti cittadini dell'Unione Europea. Grazie a tutti. Un vero e proprio viaggio nel tempo a bordo di tre carrozze di prima classe AZ-130, 136, 137, costruite nel biennio 1924-25 e ora completamente restaurate grazie al contributo finanziario di Regione Lombardia nell'ambito del contratto di servizio 2023-2027 stipulato tra Regione e Ferrovie Nord. Sono disponibili sul sito di Trenord i biglietti per viaggiare sul treno storico che, domenica 11 giugno, partirà da Milano-Cadorna e raggiungerà la stazione di Laveno-Mombello-Lago. Il nostro obiettivo, dichiara Franco Lucente, assessore regionale di trasporti e mobilità sostenibile, è valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, in quanto bene culturale di notevole interesse. Un viaggio che permette di conoscere terre e luoghi in maniera fascinante, partendo da Milano e arrivando sulle sponde del Lago Maggiore, all'insegne di turismo slow, sempre più apprezzato dai viaggiatori. La composizione del treno è completata da un locomotore elettrico E610-04, realizzato nel 1949, e dal locomotore elettrico E610-03, costruito nel 1928, interamente restaurati. I posti offerti sono il 160 e gli orari sono i seguenti. Da Milano-Cadorna, partenza alle ore 9.40 e arrivo all'Aveno-Lago alle ore 12.22. Il riento è previsto con partenza dall'Aveno-Lago alle ore 15.50 e arrivo a Cadorna alle 18.51. Il biglietto andato e ritorno costa 21 euro, corrispondente alla tarifa regionale di prima classe, e consente anche di raggiungere la stazione di partenza di Milano-Cadorna da qualunque località della Lombardia, sui normali treni trenord. I ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratuitamente, prenotando il biglietto per assicurarsi il posto a sedere.